ciao a tutti oggi siamo qui con un prossimo video del canale siamo qui a reagire il primo video dei miei collaboratori se non sapete chi sono i miei collaboratori sono stefanik il cane vivo red e rosanik le persone vedete nei miei video ovviamente comunque reagiamo con il mio primo collaboratore il primo video di stefanik è stato questo questo qua di among us insieme a me da ex che era un vecchio collaboratore e rose questo è il suo video di among us oggi siamo qui con tre persone speciali salutate ciao ok giorgia è la nuova persona e rose come potete come si dice rose lo potete vedere da l'account di sario chi se lo aspettava che rose era diventasse un youtube vabbè si trova in questo momento quindi non puoi dirlo ok raga però dovete stare zitti comunque questa allora ho paura ho paura del giallo già di giallo in teoria questo qua ero io si già ero morto in questo video nella tua partita vabbè comunque però se devo essere sinceri io e stefanik io e stefanik siamo cambiati sinceramente la voce la voce di stefanik che non sa quando è cambiato però è cambiata e la mia è cambiatissima la mia è cambiata due anni fa sembravo un bambino adesso sembra che sono un quindicenne vabbè scherzo non ho 15 anni però avevo fatto una bella evoluzione a stefanik chi ti ha accisca- si è assorio chi ti ha accisca non può dirlo Ma non vale, raga, non vale dirlo Ma non lo ha detto Io non ho detto dirlo Ok, non lo diciamo Secondo me è Stefanik Comunque se questo video arriva almeno a 20 like Almeno 20 like Io, forse, vedo sempre se Stefanik e Rosanik vogliono fare il video di Among Us Ok, facciamo 2022-2023 Ok, se arriviamo a 20 like Facciamo questo video io e Stefanik e Rosanik Appena hanno messo le luci Appena hanno messo le luci Stefan ha detto il primo Ha detto già Non è vero, non è vero Questo no, no, raga Io tengo la rec Io la prima che ho sentito è stata Rose Il primo che ho sentito è stata Rose a dirlo Quella sua faccia troppo su No, ma Rose non è vero, non è Perché non ho la fortuna Eh, sì, non ho la fortuna Come sono, ma ci sono tre Io sono, ma ci sono tre Io non ho la fortuna Io trovo Io trovo la cacchetta magica nelle casse Brawl di Brawl Stars Figurati La cacchetta magica La cacchetta magica Ma perché Ma perché hanno cacchetta gente a casa Ma c'ho le luci Guarda Penso che per Stefanik va bene un video in 35 minuti Per questo non posso farlo vedere tutto quanto Faccio solamente due minuti E adesso Andiamo ad un altro mio collaboratore Ok Un dei miei collaboratori Questo vuol dire importanti Però Non è che facciamo sempre i video insieme Però È importante per me È per Rosanik Cane vivo Perché è stato il suo primo video reaction YouTube YouTube Kids Su Con Rosanik Rosanik sta Tutte le parti comunque Mi schifo Vabbè scherzo Comunque Qua è uno dei miei collaboratori Importanti Per me Perché Come ben sapete Se lo sapete Alcuni video Li edita Lui per me Ok Per questo Mi scherzo Al suo canale Eccolo qua Il cane vivo Mi va bene Tranne Tutti qua Di link In descrizione I canali Andiamo avanti Non riesco fare Troppo impegnativo Basta Partiamo subito Ragazzi Salve Ma se Ma se Sto registrando Questo è il mio primo video Frega cazzi E nessuno ti condivido Nel schermo Primo youtuber di oggi Sarà Oh no Insieme horror Mai stare con barbie Cattiva Tutta la notte Nel giardino Della casa di barbie Vediamolo Che un botto Bellissimo Adesso guardiamo questo Vogliamo vedere Oh Che cazzo Ragazzi Ragazzi Io ci vado A Direzione Possiamo partire Andiamo Che Perché Ma che stanno mangiando La pasta Buonissima I sottotitoli Brutto strato Di niente Mai È davvero Bellissimo Buonissimo Siamo qui In giardino Ma che stiamo Maggiando là Vuoi dire una cosa Ma Questi qua Che sto mangiando Nel piatto Scusate Non c'è niente Vabbè Ciò per le tre Ma dove stiamo Bambole Ma Sì Bambole Questa Se è casa Molto belli Sono giardini Bellissimo Vediamo Buona Molto presto Ma c'è Ma non bevono Niente Non bevono Niente Che evitazione Spoiler Anche se non è proprio Non spoiler In fin di barbie Visto che sono bambole Non mangi Non bevo un cazzo Ma passavanti Questa parte noiosa Ma Bevono a bambi C'è qui Dove è la parte interessante Non vuole più vivere dentro Tutte le cose rosse La forza che qui in giardino E dice che Quello E di giorno Poteva No Dove è barbie No barbie Il giorno fuori in giardino Ok Ma di notte no No assolutamente No Adesso è notte No Oggi è stata una giornata Guardano malissime Mi sono divertita Ok Poi Il libro Davvero Bello quel dialogo Molto Però c'è ancora Comunque penso che Può finire qua Per il cane vivo Comunque Voglio dire Può dire pure Alcuna cosa Con il cane vivo Il cane vivo E Per me Per me È uno dei migliori Del gruppo Secondo me Tra me Red Seveneek E Rosaneek Due migliori Per me Perché Edita Sì sui video I miei E quelli di Rosaneek Allora È troppo impegnato Poi È bravo anche a fare i video Editarli Secondo me Ha pure delle belle idee Però Dovevo vedere Giorni per giorni Che i video usciranno Sul suo canale Per questo Iscrivetevi al suo canale Adesso Parliamo Di un altro collaboratore Che si chiama Red Il suo primo video è Ah ok Primo video Il titolo Per questo Iscrivetevi al suo canale Si chiama RedDwarf Tra me Tra me Metto tutti quanti In link In descrizione Come ho già detto prima Comunque Guardiamo il suo primo video È di Fortnite Questa volta Vabbè Anche il mio è di Fortnite Se volete Se arriviamo sempre a 20 Like Forse Forse Farò reagiscare Nel mio primo video Ok Che cringe Quel video Però vabbè Wow Il capitolo 3 Che bel capitolo Purtroppo Sta nel capitolo 4 Quasi 5 Nel momento Di la registrazione Del video E c'ho la famiglia In scrivere Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando Non c'è Non c'è Ma E' Non c'è La Dora Mai Che E' Che 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 iscriviti sennò la gara se dove il top mi faccio che stagione sia però da quello che vedo da quello che vedo mi sembra la stagione 3 capitolo penso sia la stagione 30 quel capitolo che ci ho messo il video un po troppo lungo questo video che voglio vedere se fanno la vittoria reale per questo sono perché sono curioso ovviamente andiamo avanti che sei un vero amico dammi la coporona come vedo il manga scredo gg comunque per il video per il per il per red può finire qua andiamo con il prossimo collaboratore cioè l'ultimo anche ecco qua il primo video di rosanik è il che è il più forte su fall guys non io gg per il titolo comunque vi consiglio di avervi scritto al suo canale che bravo per i video a delle belle idee pro lui insieme a red e stefanik e comunque in questo video c'ero anch'io del suo primo video infatti il suo primo video è stato è stato caricato anche sul mio canale nel mio canale l'ho chiamato in questo modo il chiamato abbiamo registrato il mio video di rosanik ok per questo andiamo avanti con i video comunque cosa devono fare gli iscritti prima di cosa iscriversi poi e poi cadi rose rose cadi ciao no 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 addio il giro della trattola e il cerco del camburo non morite gg per se poi che canta vabbè no 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 crepiamo cerchiamolo non crepare no 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 vi vedo ma nessuno muore andate sul blu ma nessuno muore siamo in 90.000 siamo in 90.000 e nessuno muore e questi 90.000 sono forti mi sa dì che la barca va no no adesso adesso siamo morti è io per esempio no sono caduto io ma che scu... vabbè oh sario no scativo per fortuna proprio tu sario perchè perchè sei dovuto abbandonare poi con quella faccia e la con la sua immagine guardalo è vero guarda ci sembra che voglio ammazzare qualcuno ma è infatti vabbè 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 almeno c'è Pedro ma è finito che sapete che è una collab e adesso adesso devo fare lo sponsor di oggi ovvero nessuno non sono sponsor no io io mi sono sali come sponsor iscriviti iscrivetevi al suo canale no è il mio sponsor e avete visto lo sneak per questo iscrivetevi al mio canale lo dice anche lui mi sono in attesa dei giocatori ehm il mio invece è sa intondo ok ragazzi siamo in due ma è la finale o no? è la finale questa qui è la finale vabbè allora io non ho letto ok allora sono carico come una molla e sono carico come una banana maestro di sfera bollente io vediamo questa panica vediamo quanto è che pazzano del cuore no volevo no ah no perché di solito quando io metto come si chiama sfera bollenti di solito lo vinco sempre quindi ho messo questo qua maestro di sfera bollente no no io sai cosa volevo mettere volevo mettere mamma ce l'ho fatta lo sono dimenticato uno è già caduto due e tre sono già caduti ma è cosa va dai 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 eh guarda la faccina che tengo dietro guarda non ti guarda nell'anima a me si tanti comunque il video finisce qua abbiamo finito con il primo video e penso il video può finire qua siamo in 5 comunque il video finisce qua questo video e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao 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 ciao